Dal centro di Bari al porticciolo di San Giorgio e ritorno fino alla basilica di San Nicola e questo è il tragitto della navetta della traslazione, l'idea sperimentale di Antonio Minelli, regista del corteo storico, per far conoscere i cittadini e turisti il viaggio compiuto nel 1087 dai marinai che portarono nel capoluogo pugliese le spoglie del Vescovo di Mira. Una corsa per il momento unica a bordo di un mezzo dell'Amtab che a partire dal 2011 si spera di mettere a regime con l'obiettivo di offrire un servizio utile ad approfondire una storia per certi versi ancora sconosciuta e più, a fare da Cicerone agli attenti passeggeri proprio il regista Antonio Minelli.